Il peggio è ormai alle spalle. Le principali strade della provincia di Sernia sono tutte transitabili, ma sempre solo con pneumatici da neve o in alcuni casi catene. Gradualmente si cerca di tornare alla normalità anche in Alto Molise, ma fino a un certo punto, in quasi tutti i paesi, la neve ha superato abbondantemente il metro d'altezza. Tutto diventa così complicato. Per portare da mangiare gli animali nelle stalle isolate, l'unica soluzione è quella di ricorrere agli sci. A Belmonte del Sannio, dopo le oggettive difficoltà di ieri, la situazione è ora sotto controllo. La carreggiata sulla strada che conduce ad Agnone è stata allargata, garantiti anche collegamenti con tutte le borgate. Qualche problema si registra nella zona di Capracotta. La strada che da staffoli conduce al paese è stata chiusa, anche a causa del forte vento. Stessa situazione su quella verso Vasto Girardi, un altro dei centri alto molisani letteralmente sepolti dalla neve. Oggi finalmente è tornato il sole e tutti o quasi sono scesi in strada per liberare le vie d'accesso alle abitazioni e le auto e, perché no, anche per concedersi una sosta al bar, pressoché obbligatoria da queste parti. Nel frattempo, uomini e mezzi comunali continuano a lavorare, praticamente senza sosta. La situazione è abbastanza sotto controllo. I mezzi hanno lavorato in modo, non dico tranquillo, però hanno lavorato notte e giorno quasi. Sono fermati proprio perché erano stanchissimi gli operatori, però abbiamo fatto fronte benissimo a questa ondata di maltempo. Speriamo che ci dia un po' di tregua, così allarghiamo un po' le strade e diamo la possibilità di potersi muovere più facilmente ai cittadini. Una nevicata abbondantissima, era dal 2015 che non vedevamo tanta neve. Situazione sotto controllo anche ad Agnone. Non si segnalano particolari disagi per raggiungere l'ospedale grazie anche all'assistenza fornita dalle forze dell'ordine. Qualche problema c'è stato ieri sera invece a Cantalupo, dove un traliccio è finito in mezzo alla strada. Alcune abitazioni per un po' sono rimaste senza corrente. La strada per Roccamandolfi è rimasta chiusa per un paio di ore. Oggi invece le cose vanno meglio quasi ovunque, anche a Esernia, dove in questi giorni sono stati impegnati nove mezzi, due in città e altri sette nelle borgate.